Buona Pasqua da Borgero, Pasqua che inizia con il match tra Samandoria e Spartak Mosca, quindi uno dei match più prestigiosi di questo 32esimo, Maggioni-Righi. Leontiev alla fine ottiene anche un altro fallo laterale, quindi mantiene il predominio territoriale dello Spartak, questo cross del numero 20 dello Spartak, attenzione, l'occasionissima è già pari Bucchia al terzo minuto di gioco, quindi già pericoloso lo Spartak. Attenzione però, ancora un'azione, Kuzovkin che entra nella blu giochiata, per questione dello Spartak, il tiro sottoporta del numero 20 che Leontiev rispinge col corpo un giocatore della Sampo ormai a Targa, quindi al 21esimo segniamo la seconda occasione. Adesso l'intervento di Kuzovkin a fare innescare il Zikov, contropiede manovrato della Spartak, 3 contro 2, il pallone a Sansonov sulla sinistra, Sansonov sul sinistro, cerca di armare il tiro, c'è il gol da parte di Artem Sansonov dello Spartak, al minuto 26, 27 in corso, c'è il gol dello Spartak in questo contropiede manovrato, si è lasciato un po' sorprendere, l'elettroguardia, blu cerchiata, 3 contro 3, il pallone al gatto alla sinistra, dove Sansonov ha potuto portare in vantaggio lo Spartak. Kuzovkin colpo di testa da parte di Zikov, Shestakov. Bella la percussione della Spartak, c'è il gol 2-0 di Leon Tieve, elegantissimo, Leon Tieve ha fatto tutto bene e alla fine ha fatto anche il gol, quindi Spartak 2-0 partita, questo che è chiusa. Il secondo sigillo dello Spartak, quello segnato da Leon Tieve ha davvero dato ulteriore linfa alla squadra dello Spartak che sembra davvero ingalluzzita. E poi ecco Leon Tieve, quindi i gol sono segnati nel primo tempo al 26esimo da Sansonov e al sedicesimo dal secondo tempo da Leon Tieve. Adesso ancora una percussione di Shestakov e deve in qualche modo salvarsi in calcio d'angolo Benedini. Davvero tramottita la squadra blu cerchiata, il secondo gol l'ha subito, lancia probabilità in zona del numero 12 che fa il terzo gol, è il gol da parte di Shestakov in certezza del Sampdoria. Shestakov ha approfittato piazzandola in diagonale nell'angolino, quindi al 27esimo minuto lo Spartak segna il terzo gol, forse punizione troppo severa per la squadra allenata da mister Tufano. Finisce il match, Spartak batte Sampdoria 3-0.